oh oh ma è inutile veniate da me bisogna andare alla taglia qua vamonos neanche quanto è lontana ma è solo un isolato ancora andiamo aspetta ma no si sta spostando si sta spostando è qua è qua vieni vieni deve esser lì puscialo puscialo ciao ti ha sparato un cecchino comunque occhio è dove ha visto si si è lì ma si è spostato ora eccolo eccolo ma c'è un elicottero sparare all'elicottero è lì è lì è lì è lì è morbido è morbido no si cazzo ha preso le bombe ha 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 le bombe ho lasciato oh 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 W ballo eод impulso che sto ma in prima ah 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 hai visto ai referee vieni come vi hat e quello che sai a caccio d'incanzaИ a番res il bolo Nel culo